In via Cristoforo Colombo sono iniziati i lavori notturni di riqualificazione profonda delle carreggiate interne. Le lavorazioni sono partite da piazzale Cristoforo Colombo, Ostia e proseguiranno fino all'altezza di Vitinia, circa 11 chilometri. Il cantiere prevede il rifacimento d'asfalto, segnaletica e la pulizia dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche. Inizieranno la prossima settimana invece le lavorazioni nel tratto tra Viale di Porta Ardeatina e piazzale Pierluigi Nervi, circa 6 chilometri e mezzo. In questo caso è prevista la realizzazione di sfalci, segnaletica orizzontale, pulizia delle banchine e riquotatura di chiusini e pulizia delle caditoie in orario diurne notturno, mentre il rifacimento della pavimentazione stradale sarà sempre eseguito di notte. I lavori saranno seguiti da ANAS, società del Polo Infrastrutture del gruppo FS italiane. Hanno un costo complessivo di 15 milioni stanziati per il giubileo e si concluderanno nel prossimo luglio. Al termine di questa fase di lavoro verrà completata la strada nella tratta tra Vitinia e piazzale Nervi per passare infine alle corsie laterali.